Buon pomeriggio, benvenuti in Corsia. Nel mese di febbraio ci siamo visti, è una puntata, abbiamo affrontato l'argomento riguardante il danno renale, la dialisi, la nefrologia, con il dottor Antonio Nicoletti, al quale abbiamo dato un rivederci. In effetti, eccolo qui, a distanza di mesi, buon pomeriggio, dottor Nicoletti. Buon pomeriggio a lei e ai telespettatori. Direttore della rete emodialitica dell'ASP di Cosenza, nefrologo, naturalmente parleremo di danno renale, parleremo dei meccanismi di danno renale, della prevenzione, anche di dialisi e di patologie renali. Il nostro numero è sempre 0984 152 5321. C'è anche il numero WhatsApp per chi vuole intervenire e fare qualche domanda. Con il dottor Nicoletti abbiamo affrontato anche il discorso della rete emodialitica nella provincia di Cosenza, in particolare della possibilità, intanto della capillarità della rete emodialitica, perché bisogna fare in modo che i pazienti che sono in dialisi non viaggino, non sottopongano a un eccessivo stress il proprio organismo. Sappiamo quanto costa in termini di stress psicofisico la dialisi per i pazienti e quindi bisogna evitare al massimo gli stress e quindi viaggi e trasferimenti. E poi c'è il problema dei trasferimenti durante l'estate, perché ci sono moltissime persone che raggiungono la Calabria che hanno la necessità di sottoporsi al trattamento dialitico e dunque la Calabria si fa trovare pronta, anche da questo punto di vista, ed è un supporto sanitario al turismo calabrese. E anche i calabresi che rientrano in regione per venire a trovare i propri cari e hanno difficoltà a effettuare la dialisi, beh, la provincia di Cosenza almeno, ma immagino in tutta la Calabria, ci si deve fare per rendere un servizio eccellente ai tanti che si sottopongono al trattamento dialitico, in questo caso emodialitico, ma poi c'è anche il supporto per chi effettua la peritoneale, poi ne parleremo. Dottor Nicoletti, da febbraio che passi avanti sono stati fatti? Beh, con una punta d'orgoglio ho accettato e con piacere il vostro invito a ritornare, proprio perché è bello anche, molte volte, riuscire a sottolineare le cose buone. Noi parlammo nella precedente trasmissione della possibilità di ridare un servizio importante come quello della dialisi nell'area del territorio coperto da Rogliano, chiuso per vari motivi, ma soprattutto per il Covid. Ecco, l'avevano data come un input, ma adesso la diamo come una certezza, perché è pure bello dare le notizie dopo che sono avvenute. Molte volte lo so che lo scoop ha un altro valore dal punto di vista giornalistico, però io sono dell'idea che le cose prima si fanno e poi si dicono e non si annuncino, perché molte volte si ferma solamente all'annunciazione, annunciazione di idee, di troisi e basta. Invece siamo riusciti a riaprire in maniera veramente professionale e dal punto di vista strutturale, in maniera importante, il centro dialisi di Rogliano. Permettetemi, perché è doveroso, perché non è, sarei presuntuoso se assumessi tutto, come dire, le cose buone, il merito. No, devo essere sincero, ma non per piageria, c'è stato un grosso input e sostegno da parte del direttore generale, ma a cascata di tutti gli uffici che erano coinvolti, perché c'è la parte medica, ma c'è anche la parte strutturale, e inizialmente è stata la parte strutturale che era importante. Ma questo, ecco, grazie al direttore, il dottore Graziano, che ci è stato veramente vicino, ci teneva veramente tanto. Siamo riusciti in un progetto che normalmente avrebbe richiesto mesi, in un mese e mezzo siamo riusciti ad aprire il centro di Rogliano. E quindi, è stata una grande soddisfazione, funziona. Abbiamo al momento 12 pazienti, perché per la carenza dei medici, ma questo non è colpa di nessuno in tutta Italia, che è così. Anzi, sottolineiamo una cosa, l'azienda si prodica, tant'è che c'è un nuovo avviso. Un nuovo bando. Sì, un nuovo bando di mobilità, proprio per 5 nefrologi, speriamo di avere delle adesioni, ma al momento noi, il nostro centro a Rogliano è un centro che funziona perfettamente, con uno staff medico e infermieristico, posso fare un inciso, è doveroso da parte mia. Molte volte parliamo del comparto, il comparto nelle dialisi, forse è più importante, della parte medica. Se teniamo conto che ci stanno centri di assistenza limitata che sono gestiti solo dai infermieri, e gli infermieri della rete emodialitica sono veramente dei professionisti eccelsi, non ottime, eccelsi. Ed è grazie a loro, se noi riusciamo a mantenere, in questa situazione particolare, a mantenere già l'ordinario. Quindi è la doverso mia ringraziarli, perché sono veramente dei collaboratori, o se parlo di comparto, o se infermieri. Possiamo immaginare quanto siano importanti, perché comunque la procedura... No, 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 è stata la prima, proprio per quello che dicevamo nella trasmissione presenta, la soddisfazione per tutta l'azienda, per tutti i territori, ma soprattutto la soddisfazione per i pazienti. Ma quanto era chiuso il centro dialitico? Dal 2020, epoca Covid, diciamo dal 2020, quindi anni, in cui molti pazienti sono stati costretti a dializzare di notte nel turno serale al centro di Cosenza, piazza Mendola e non azienda ospedaliera, e alcuni che poi hanno preferito pure rimanere lì a fare dialisi, sul centro di Amantea. Però tutta la zona sud-est... Quindi anche da Rogliano si dovranno spostare a Amantea? Sì, sì, anche da Rogliano dovranno andare in questi centri. Stiamo parlando di 50 minuti di viaggio. Viste le condizioni dell'autostrada, io la faccio spesso, con tutte le deviazioni che ci stanno, alcune volte vedo delle file di camion infinite, e quindi che poi il paziente dializzato, soprattutto a fine dialisi, avrebbe necessità di arrivare nel più breve tempo possibile a casa. Invece magari deve sottoporsi a file chilometriche di traffico e arrivare in tardi. Per non parlare, anche Cosenza la notte non era proprio comodo, anche per le famiglie? A prescindere sì, certo, certo. Per chi ha un'attività lavorativa. Ma chi ha un'attività lavorativa. Ma d'altronde, ecco, è vero che ci stanno associazioni che accompagnano i pazienti, però molti di sera soprattutto devono essere accompagnati dai familiari. Certo. Oddio, la dialisi in generale è uno status che coinvolge la famiglia, però noi dovremmo limitare, mitigare quello che è lo stress, anche nel senso buono, perché parto sempre da un principio, che i familiari non, vuol dire, E' chiaro che lo fanno con amore, lo fanno con piacere. Amore, con dedizione, però è normale che noi dovremmo limitare al massimo almeno questo tipo di impegno e la regione comunque sta provvedendo proprio a fare un decreto che incida in maniera univoca su quello che è il trasporto del paziente realizzato. Perché adesso ogni ASP ha un suo modo di rimborso o di agire su quello che è il trasporto del paziente. Cosa importante è che la regione faccia un decreto che, come dire, in maniera univoca dica che bisogna fare in questo modo e che fissi anche eventuali tariffe. C'è un'altra novità, sempre su Rogliano, perché la presenza del nefrologo ha una doppia vadenza. Io la ringrazio per aver sottolineato questa cosa, che è una cosa importantissima. Nel giro di pochissimo tempo siamo passati da quello che doveva essere solo un'assistenza al dializzato, perché esiste tuttora, io li ringrazio per il supporto iniziale, ma li ringrazio anche se per il futuro loro saranno disponibili a darci una mano. vista la carenza di medici che abbiamo, prevedeva l'apertura sempre dell'azienda sanitaria provinciale, però con i medici in convenzione dell'azienda ospedaliera. Nel giro di poco tempo però siamo riusciti a mandare a Rogliano un medico strutturato, una dottoressa che poi oltretutto, lo dicevo pure forse l'altra volta, è giovane, ma i giovani sono sicuramente più bravi di noi vecchi, perché loro le studiano, noi ci dobbiamo aggiornare, loro studiano per sei anni alcune cose, più la specializzazione, una ragazza in gamba che si è amalgamata benissimo con l'ambiente, con la parte infermieristica e quella degli ossa, e questo ci permette anche di guardare non solo al dializzato, ma al nefropatico, a giorni partiremo con l'ambulatorio di nefrologia, speriamo poi di implementarlo anche con quello di ecografia, ma è un servizio che guarda alla popolazione in generale, cioè non è un prodotto di nicchia, chiamiamolo così, tra virgolette quello della dialisi, ma è un prodotto che entra ed è importante anche a supporto di altre specialistiche, come per esempio il diabete, abbiamo parlato un'altra volta delle varie patologie che portano a un danno renale, quindi poi magari alla dialisi, ecco, in supporto, ma in collaborazione più che supporto al diabetologo, all'endocrinologo, all'ipertensione, al cardiologo per quanto riguarda la pressione, ecco, è un servizio che quindi integra e sicuramente fa in modo di dare la migliore cura al paziente che il nefropatico diventa, perché la maggior parte delle nefropatie che noi abbiamo sul nostro territorio non sono nefropatie, anzi, di per sé le nefropatie primitive sono molto limitate, ma nefropatici lo diventano, non partono come nefropatie, cioè come i nefropatici, quindi è una cosa importante, di questo io sono veramente soddisfatto, di questo è soddisfatta la direzione generale, e speriamo poi di implementare mano a mano, d'altronde erogliano, do un'altra novità, tra poco partirà la manifestazione di interessi, perché erogliano è stato individuato a livello aziendale e regionale come il centro del vascular team, cioè sarebbe un team che si interessa del confezionamento fistole e tutto quello che riguarda l'immissione in dialisi del paziente. Teniamo conto che nella regione Calabria alcuni centri fanno, e fanno pure poco, perché non hanno la possibilità dal punto di vista sia numerico, ma proprio di persone, di medici, che si interessano di questa tipologia di intervento. Il vascular team marrogliano invece, utilizzando le sale operatorie, perché sono libere, e farà in modo che chi ha bisogno di confezionare la fistola per effettuare dialisi, per mettere il catetere e così via, potrà farlo in loco. Cioè sarà punto di ripetimento non solo di tutta la provincia, ma anche delle altre province se ne sono sprovviste. Quindi l'intervento per creare la fistola, per poi effettuare la dialisi emodialitica, si farà a Rogliano? Sì. Adesso dove si fa? Allora, adesso diciamo che alcune... Perché è passato e si arriva all'annunziata. Allora, l'annunziata, però la maggior parte, perché loro non potevano, come dire, sostenere, non possono sostenere un certo numero di interventi, molti... Ecco, l'unica emigrazione sanitaria che riguarda la dialisi forse è proprio il confezionamento fistola. Salerno, Avellino, perché lì ci stanno dei centri, acqua viva delle fonti all'epoca, oggi invece noi riportiamo tutto qui. Riportiamo tutto nella nostra... Diciamo che si rientra nella normalità. Si rientra nella normalità, tenendo conto di quello che diceva lei. Perché dobbiamo stressare il paziente? Fra l'altro il momento successivo poi alla fistola non è delicato per il paziente. Ma io mezzo progetto ce l'avrei, poi lo proporrò pure al direttore generale, che al vascular team noi si possa creare lì a Rogliano un punto di osservazione del paziente. Ecco, la degenza di una settimana... Ma no, ma anche basta un giorno, due giorni e una piccola degenza, magari senza nemmeno, come dire, dispendio di energie o di implementazione di personale, perché le cose si vuole e si fanno e si fanno in un certo modo. Chiaro che esiste. Anche perché la sorgliano degli ottimi professionisti infermieri che potrebbero, che saranno sicuramente di supporto nel pre, durante e in questo caso anche nel posto. Posso immaginare che chi arriva a dover effettuare la dialisi, l'emodialisi, e subisce l'intervento per l'immissione della fistola non è in grandissima condizione, quindi ci può essere uno scompenso cardiaco? Sì, sì, sì. Diciamo che va fatto uno studio preliminare, perché poi, grazie a Dio, cioè il confessionamento della fistola è prodromica al trattamento, quindi è programmabile. Però ecco, noi abbiamo una cosa a cui dovremmo arrivare, è quello delle urgenze legate alla fistola, legate al malfunzionamento della fistola. perché per loro è come se fosse l'ago di dialisi e la spina, perché è una presa, e se non c'è quello si spegna la luce. Certo. Quindi, e questa è una cosa importante, e speriamo che vada in porto. 13 centri in provincia di Cosenza, e naturalmente il dialisi in vacanza è un progetto che va avanti anche quest'estate. Io penso, il turista o il calabrese di ritorno che è a Camigliatello farà la dialisi a San Giovanni in Fiore? Sì, San Giovanni in Fiore. Allora, i centri, ecco qui, e qui devo ringraziare veramente i colleghi che hanno accettato di far parte del progetto di dialisi vacanza, perché si fa extra orario, è vero, ci si paga. Ma penso che chi ora debba essere pagato. È uno straordinario, però non sempre siamo disposti però molte volte, molte volte, il gioco non vale la candela, però loro, come dire, fanno valere la candela, nonostante la stanchezza, il fatto che non è che noi si possa andare in vacanza o fare i 15 giorni di ferie, però con senso di appartenenza, di abbenegazione, d'amore verso il paziente, ebbene ha accettato di partecipare, di aderire a questo progetto. I centri sono quelli di Cariati, quello di Trebisacce, e lì devo ringraziare la dottoressa Mazza, perché è unica dottoressa, che però fa pure il servizio, che mi fa pure la dialisi vacanza. Poi c'è Lungro, ovviamente San Giovanni in Fiore, e poi il Tirreno. Paola, Cetraro? Paola, Cetraro e Preamare. Su Amantea però per difficoltà, ecco, proprio di organico vero, non è stato possibile, e devo dire che anche i colleghi a malincuore non hanno potuto partecipare a questo progetto. Quindi per Amantea, per la zona sud, c'è Paola, diciamo. C'è Paola, poi d'altronde se vogliamo, ecco, il territorio, se vogliamo definirlo così, è coperto, è coperto pure abbastanza bene. E lei deve tenere conto che... sono diciamo 20 minuti di auto da Amantea a Paola. Sì, sì, sì. E poi c'è quello che volevo sottolineare è che facendo i calcoli, perché il progetto, ovviamente noi dovendo dare anche disponibilità a più pazienti possibili, abbiamo stabilito che ogni paziente può fare 15 giorni, quindi sono 15 giorni, sono 6 trattamenti, 7 trattamenti dialitici. E facendo questo calcolo arriviamo a dare, come dire, la possibilità di dializzare in un centro balneare o montano durante l'estate a più di 220 pazienti. Non ci sono Rossano e Corigliano? Che non sono numeri piccoli, eh? Non ci sono Rossano e Corigliano? Ma Rossano e Corigliano sono coperti da tre bisagge. Intanto non fa parte della rete. Rossano non fa parte della rete modialitica. e lì, come dire, probabilmente hanno difficoltà, anche perché lì forse la carenza di medici si fa sentire di più. Ancora di più. Ancora di più. E quindi questa è una grossa soddisfazione, anche perché, se mi permette, noi siamo state la prima azienda ad approvare la delibera di dialisi vacanza, in tutta la Calabria. anche perché abbiamo un progetto pure collaudato e dal punto di vista organizzativo ma anche dal punto di vista economico. Spero che vi stiano seguendo le province che vi abbiano seguito che siano attrezzate a notizia. Sì, per carità, si stanno, so che i centri di tropea e, diciamo, soprattutto, Locri e altre zone stanno, non so se sono partiti, ma volevano partire, però quello che conta è chi arriva prima. Noi siamo arrivati prima e io sono abituato pure personalmente, perdonatemi la presunzione, io sono abituato ad arrivare prima. Questo primato. Questo primato. Dunque, ripeto, queste cose però denotano una cosa importante. Ecco, il gioco di squadra e il supporto di un'azienda da soli non possiamo fare niente, ci vuole tutta la buona volontà, però se non ti supporto dal punto di vista, ripeto, anche tra virgolette economico, ma per quanto attiene il centro di Rogliano la propria strutturale, si fa poco. Invece questo, ecco, è una vittoria, è un primato raggiunto dall'azienda. Ci tengo a sottolinearlo, perché questo poi è accaduto. in tutte le cose. Se l'azienda è un'azienda bene freghista, fai poco, la voglia bussare, se l'azienda partecipa attivamente a quelle che sono le progettualità messe in campo, allora sicuramente noi il progetto lo portiamo a termine, come è stato fatto a oggi. Cosa deve fare un cittadino dializzato che attualmente per esempio fa la dialisi a Cosenza e si vreca sul Ionio, sul Tirreno per spostarsi periodicamente in un'altra zona? Intanto è tutto definito ed è tutto pubblico, è tutto definito perché nella delibera è stato stabilito quello, anche il percorso. è stato pubblicato un link sulla pagina aziendale in cui i pazienti dovevano entrare e dare e chiedere la possibilità di effettuare la dialisi di vacanza. Ovviamente quello che fa fede è l'ordine di prenotazione e quello che si è prenotato a mezzanotte è uno del giorno in cui si è priva la possibilità di aderire cioè di chiedere e di effettuare la dialisi di vacanza è ovvio che avrà più possibilità di un altro perché purtroppo noi non possiamo fare una differenza tra dializzato e dializzato il paziente dializzato è uguale e quindi non è che c'è il dializzato che ha più bisogno di vacanza o meno quindi siamo come dire l'unico criterio è quello della prenotazione e c'è stato un periodo in cui diciamo sono aperte e chiuse le prenotazioni e poi abbiamo chiamato ci siamo messi in contatto abbiamo dato tutte le indicazioni per poter venire cosa importante però abbiamo prediletto ovviamente perché si tratta di dialisi vacanza abbiamo prediletto i pazienti delle altre regioni non avrebbe senso è come se io mi amate di praia mi vado a villeggiare a casa di mamma non è così noi dobbiamo anche perché poi parlavamo prima di migrazione sanitaria la dialisi è l'unica oggi migrazione sanitaria al contrario perché vengono da noi noi non abbiamo migrazione anche durante tutto l'anno di pazienti dializzati che vanno fuori noi i nostri li trattiamo in loco cioè nella nostra provincia nei nostri centri e prendiamo pazienti dalle altre regioni nel periodo estivo alcune volte come dire come l'anno scorso in maniera più limitata quest'anno in maniera più ampia speriamo l'anno prossimo che tutti e 13 centri possano come dire fare la dialisi vacanza e quindi prendere pazienti da tutti i posti c'è un vantaggio economico anche per le casse della sanità calabrese ma quanto meno non c'è una spesa quanto meno e già questo è importante c'è il senso che poi ovviamente le impegnative perché loro vengono con l'impegnativa ma la compensazione che vengono vengono rimborsate poi dalle regioni di appartenenza ma ci sarà la compensazione perché magari la regione Lazio avanza da noi siamo in debito con tutti o quasi ma questo penso che il debito sia incrociato da parte di tutti quanti chi più chi meno quindi questa è una cosa importante questo è importante allora ci sono altre altre novità che riguardano la rete emodialitica ma speriamo per la prossima di dare qualche perché poi ecco il fatto di guardare sempre avanti vuole fare sempre di più magari ci ritroveremo tra qualche mese a parlare del vascular team e della sua organizzazione che non è cosa da poco conto benissimo allora possiamo anche mancano pochissimi minuti anzi andrei in pubblicità adesso così la seconda parte della trasmissione la dedichiamo alle patologie renali poi naturalmente se i nostri telespettatori faranno altre domande sulla dialisi siamo pronti a rispondere quindi pubblicità e poi seconda parte dedicata a patologie renali e naturalmente alla prevenzione di nuovo in studio seconda parte di Incorsia oggi parliamo di nefrologia abbiamo affrontato gli argomenti che riguardano la dialisi in particolare la rete emodialitica in provincia di Cosenza abbiamo parlato del nuovo centro dialisi rogliano e del progetto dialisi in vacanza che anche quest'anno partito in anteprima in provincia di Cosenza funzionerà per chi deve sottoporsi a trattamento dialitico nei luoghi di villaggiatura adesso parliamo dell'altra parte dell'argomento ossia delle patologie renali facciamo un viaggio nelle patologie renali scopriamole una a una vediamo quali sono i sintomi di riferimento più che parlare di sintomi di riferimento bisogna come dire ribadire quelle che sono che oggi la fanno da padrona nell'entrata in dialisi soprattutto perché anche la popolazione sta cambiando andiamo un po' in generale il paziente anziano il paziente quindi il paziente anziano magari diabetico magari cardiopatico ecco è anche col fatto che si allunghi alla vita è diventato uno dei pazienti preminenti in dialisi le patologie non cambiano cambiano i trattamenti ma cambia soprattutto quello che è l'approccio al paziente posso interromperla parliamo di approccio fra pochissimo c'è una telefonata buon pomeriggio da dove chiama e come si chiama mi chiamo Marco e chiamo D'Arrogliano vorrei fare una domanda al professore prego professore io un anno fa mi feci un calcolo all'ospedale e mi dissero che c'era un altro calcolo e mi misero in in aspettativa è passato un anno e non mi chiama nessuno siete voi che portate le persone a portare poi alla dialisi perché se non mi chiama nessuno è passato un anno nessuno mi chiama per l'altro calcolo che ho ma lo spiega perché questa cosa guardi intanto bisogna capire il secondo calcolo dove è localizzato perché è pur importante questo ma un anno lo so però questo è più un argomento come dire di pertinenza urologica ma ciò non toglie che io non possa risponderle per carità non rifuggo dalle responsabilità il fatto il fatto di essere chiamati intanto riguarda non so dove lei si è recato ma non mi interessa non mi interessa il luogo perché per demonizzare perché sicuramente sarà andato magari in ospedale avrà fatto lì un'ecografia il calcolo lo ha espulso naturalmente oppure si è dovuto intervenire o altro ecco sono tante le domande il fatto che lei venga chiamato però come dire di necessità virtù se lei viene a San Giovanni in Fiore il sabato mattina anche il prossimo sabato perché io ci sono se viene da me io le faccio l'ecografia guardiamo un poco come riprendere il discorso e indirizzarla nel migliore dei modi però io purtroppo non posso adesso sapere del perché non l'abbiano chiamata o perché o se era in lista se realmente era in lista per essere chiamato o se doveva fare dei semplici controlli perché sono tante cose cioè come dire io ci vado con i piedi di piombo perché ovviamente lei dice una cosa e per carità io le credo però può darsi pure che non c'era come dire la necessità di un controllo seriato se non magari un controllo ecografico dopo sei mesi un anno se lei vuole noi siamo a disposizione per quello che ci compete ma voi a San Giovanni in Fiore lo fate no no noi facciamo il controllo non è che come dire lei mi ordina pasta e patate io le faccio pasta e patate a San Giovanni in Fiore però insieme possiamo costruire il menù vediamo un poco facciamo l'antipasto poi facciamo il primo poi il secondo eventualmente poi vi mandiamo in un centro dove possono effettuare questo tipo di trattamento ne abbiamo alcuni anche se Cosenza l'azienda ospedaliera ha un ottimo primario un ottimo staff ma nella zona del Cotonese c'è il Romolo Hospital che è un ospedale urologico ecco però bisogna parlare così non come dire lei mi forza su un qualche cosa che io non conosco anche perché poi il ripeto noi dobbiamo il paziente io ho 85 anni non è che posso viaggiare a Parco lo so però se noi potessimo io non so a Rogliano se c'è la specialistica ambulatoriale urologica perché l'ospedale non chiama dopo un anno ma questo non glielo so dire io posso solamente dire che bisognerebbe pure sapere la storia clinica e capire perché non chiamano quindi grazie 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 bene quindi dovrà sicuramente tentare di rivolgersi alla struttura la quale si è rivolto magari riprovare a sì perché poi come dire lo dicevo prima molte volte quello che noi pensiamo e raccontiamo non coincide magari con la storia clinica e questo come dire poi potrebbe creare anche delle contraddizioni o altro per cui capisco il problema ma oltretutto se avesse come dire continuato in quella che è la sua ricerca dal punto di vista clinico si sarebbe potuto rivolgere ad altra struttura anche perché penso che pure ad Ogliano stesso la possibilità di fare un'ecografia c'è e vedere un poco che situazione è realmente e di che necessità reali ha il paziente certo così non si può passiamo parlando dell'approccio alle patologie sì l'importante è l'approccio l'approccio questo parte sempre come dire c'è una scala e un conto è arrivare già con una cretinina anche poco al di sopra della norma non per forza con una cretinina altissima un conto invece come dire partendo da quella che è una patologia conosciuta diabete è un controllo prima il problema che a volte noi sottovalutiamo delle cose che sono banali cioè ho il diabete allora attenzione non sto assolutamente criminalizzando il paziente perché il paziente è paziente se non è un paziente medico è paziente però noi dovremmo in maniera sinergica tutti quanti indicare la strada migliore al paziente e in questo modo si fa una cosa più importante che è quella della prevenzione cioè il paziente diabetico di cui abbiamo detto poc'anzi il paziente diabetico si sa che ha percentuale alta di nefropatia non di dialisi perché molte volte noi arriviamo sempre alla fine non è quello ma di nefropatia che di per sé anche come patologia e non come dializzato comporta sacrifici dietetici farmacologici quindi ecco è l'approccio noi dovremmo in un certo qual senso veramente essere sinergici e inviare il paziente allo specialista di riferimento prima ancora che questo sviluppi nel nostro caso una nefropatia se a me viene il paziente anche le faccio un esempio no volte volte un paziente che diciamo ha uno dei primi sintomi almeno così è descritto ma io l'ho visto anche dal punto di vista pratico uno dei sintomi è l'iperfiltrazione cioè il paziente diabetico comincia a urinare tantissimo beh quello è uno dei primi sintomi di nefropatia anche se la creatinina è normale riuscire a capire queste cose applicare pure un po' di semi o di carlo ma questo ci permette di bloccare un processo o almeno tentare di bloccare il processo perché poi saremmo pure presunto curando la glicemia si curano i reni o cosa? di base di base eppure sfatare alcune cose io fossi io diabetico per esempio io preferirei subito l'insulina e non spremere il mio pancreas o fare altre cose compresse e così via ovviamente adesso lo sto dicendo provocatoriamente però noi demonizziamo l'insulina oggi per esempio notizia di qualche settimana fa dice che adesso c'è un tipo di insulina che si fa una volta al mese che cosa si vuole? il progresso dal punto di vista medico farmacologico è a favore del paziente questo per non stressare gli altri organi? ma certo è normale e poi c'è ovviamente la parte del paziente perché è pure importante educare il paziente perché se il paziente pensa siccome ho fatto l'insulina posso mangiare non abbiamo fatto niente è come quello che fa un'ora di palestra siccome ho fatto la palestra e poi si ha la coscienza a posto e poi poi vado a mangiare un piatto di spaghetti all'Alberto Sordi da mezzo chino 250 grammi ecco quindi qualche cosa fa abbiamo parlato di diabete con la dottoressa Angela Mazza abbiamo presentato il sensore sottocutaneo che aiuta a tenere sotto controllo la glicemia e quindi a intervenire quando si deve con l'insulina sì però ripeto ecco se il paziente non viene educato il sensore è come quello che è un sensore della macchina quando facciamo un parcheggio che la suona 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 però alla fine va a sbattere non è che ti ferma il sensore ecco non blocca sì alcune macchine lo fanno pure però di base è così questo per fortuna i pazienti devono devono sapersi l'autocontrollo diciamo che è importantissimo ripeto come parlavamo prima di sinergia tra le varie specialistiche importante è anche importante la sinergia che si riesce a creare col paziente bisogna educarlo ma nemmeno stressarlo un ruolo importante ce l'hanno i medici di base i medici di base hanno un ruolo importantissimo molte volte noi partiamo un po' con la storia però il medico di base prima faceva tutto il medico di base era chirurgo il medico di base era ostetico il medico di base era qual è una patologia che non potesse trattare cucivano facevano partorire faceva di tutto poi mano a mano forse si è svuotato non so non riesco a dare una motivazione a questo di quello che è significato però il ruolo del medico di base è importante è quello che controlla il paziente a prescindere dalla patologia cioè già il fatto stesso di fare voglio dire ti faccio lo screening annuale perché magari una volta all'anno è pure bene che uno si controlli e guarda gli esami e quindi può individuare quello che individua da subito il problema ed è lui quindi che deve indicare al paziente dove rivolgersi e quando rivolgersi tenendo conto pure del fatto che ci debba essere poi successivamente una forte collaborazione tra lo specialista e il medico di base questo anche inciderebbe non mi piace perché io non una cosa che mi ha dato sempre passire è stato monetizzare la sanità la salute questo non mi piace però è pure importante lo spiegare perché con questa ripeto per l'ennesima volta questa sinergia che si crea necessaria anche dal punto di vista economico provoca un risparmio perché evita e sono inutili evita poi alla fine la dialisi prima dicevo vabbè ma giusto come esempio come dire come esempio di spesa la dialisi non è gratis la dialisi costa è chiaro quindi intanto facciamo un bene al paziente ma anche alle nostre casse che non è male certo altra collaborazione importante con il cardiologo fondamentale io sono rito col cardiologo perché come dire ci vediamo pure in giro chi deve trattare l'ipertensione il defrologo o il cardiologo ecco importante oggi e mano a mano che si affinano anche le tecniche chirurgiche o interventistiche è sempre importante quindi la collaborazione con questa branca intanto perché le patologie cardiache incidono in maniera importante su quella che è il danno renale e poi perché ecco si entra nel circolo vizioso del danno renale che incide poi sul cuore su due cose che poi si incrociano connessi quindi questa è una cosa importantissima come per esempio oggi è importante una cosa cui si dovrebbe discutere tantissimo anzi creare delle linee guida anche se so che esistono per carità ma molte volte creare delle linee guida univoche sull'effettuazione di alcuni esami con mezzo di contrasto nei pazienti giorno per giorno noi assistiamo a diatribe o a rifiuti di fare effettuare esami contrastografici perché questo può fare malo al rene ma io molto molto mi chiedo ma se uno tiene un tumore che perde il rene mi venga in dialisi è l'ultimo pensiero voglio dire ma in ogni caso se è necessario allora che cosa dobbiamo fare o quando è necessario o domanda ancora più provocatori è realmente necessario cioè è realmente un rischio così importante o che non torni indietro il fatto che facciamo un esame contrasto una volta che abbiamo fatto gli esami quindi c'è la preoccupazione per utilizzare i mezzo di contrasto in soggetti che potrebbero avere sì perché questo potrebbe portare a un'insufficienza renale acuta attenzione acuta ma oggi ci sono i presidi pure c'è la possibilità questa parlavamo di collaborazione questa è un'altra collaborazione che è vero che non incide dal punto di vista della patologia però è pur vero che incide dalla difficoltà di diagnosticare altre patologie dobbiamo un po' metterci d'accordo su questo c'è una domanda da casa una telespettatrice che vuole sapere se c'è un criterio sulla quantità di acqua che può bere o che deve bere un soggetto con problemi ai reni e scompenso cardiaco ma questa purtroppo è legata pure per noi nefrologi alla diuresi è più facile fare un bilanciamento perché entrata e uscita cerco di semplificare perché noi che possiamo dare spiegazioni facciamo come dire un qualche cosa che è più divulgativo un'arma dottor taglio il vero e tanto il taglio pure che merita cioè nel senso noi facciamo entrata e uscita penso pure che il paziente ha realizzato quello che oppure nel nefropatico qua non ha realizzato problemi ai reni ma sì stavo dicendo nello scompenso questo bisogna vedere per essere pratici quanto è forte il cuore quindi la funzione di pompa del cuore è la funzione di pompa la questione e lì è molto delicato lì è molto delicato non possiamo quantizzare perché poi c'è un'altra cosa ecco che io mi rifiuto di fare cioè quello di generalizzare la cura la cura è personale è personale bisogna capire bisogna vedere il paziente bisogna vedere vedere l'ecocardio vedere la frazione di aiezione vedere che tipo di scompenso vedere il il rene com'è interessato quanto è interessato il il filtrato colomerulare ecco è tutto un noi non siamo una macchina uguale uguale e soprattutto non rispondiamo che prendiamo i freni e li possiamo mettere dove vogliamo ognuno di noi ha un freno o un acceleratore o l'olio ecco pure il ricambio che deve avere quindi mi dispiace io non posso come dire ma è già una risposta questa vuol dire che questa persona chiunque si trovi in queste condizioni deve avere una cura personalizzata quindi vedere tutte le cure sono personalizzate e l'esembrerà cioè le parlavamo prima la dialisi tutti parlano di dialisi e fa paura perché non conoscono non sanno che cosa è che parla del cittadino giustamente però anche la dialisi la dialisi è un trattamento personalizzato certo ieri era diverso ma oggi abbiamo rene artificiali e oggi è tutto quanto rene artificiali che ci permettono di programmare minuto per minuto anche il sodio faccio questo esempio magari i miei colleghi rabbrivideranno perché ma io mi devo far capire dal come dire dal non addetto al lavoro perché questa è una trasmissione che è dedicata ai pazienti cioè alle persone non addette ai lavori e allora ecco ci permette di fare di tutto e quindi noi possiamo personalizzare possiamo dire quanto peso devono perdere al primo minuto e quanto ne devono perdere dopo un'ora e quanto ne devono perdere cioè possiamo programmare di tutto è tutto personalizzato non esiste non esiste non si standardizza non tutti nel caso dell'ipertensione possono tutti possiamo dare l'amlodipino un calcio antagonista anziché dare un acenibitore o un sartanico bisogna capire che cosa vogliamo e qual è che cosa vogliamo sortire dalla terapia che noi diamo il tempo lì si perde se no non c'è bisogno nemmeno di fare la visita cioè mi viene il paziente gli dico per telefono non calcio antagonista questo non faccio un nome commerciale ma prendi questo questo e questo abbiamo finito allora chiamo io gli do questo e posso anche stilare come ricetta della nonna me le faccio ciclostilare una volta chiedo scusa un vecchio parla ancora del ciclostilare me le faccio stampare e poi come viene il paziente manco faccio parlare gli do quelle e invece no ma non è così non è così e se c'è il potassio alto e se ha un'asterosi dell'arteria renale posso dargli l'acenibitore punto interrogativo non glielo posso dare ma devo saperlo e quindi devo posso darla a cuor leggero un certo tipo di farmaco certo anche la tachipirina di cui le mamme fanno largo uso è uno degli effetti collaterali più brutti no è così epatocellulare ti spacca il fegato se non c'è il trapianto si muore ma anche la tachipirina che per noi è un farmaco cioè per come dire tra i più usati il vedere comune è un farmaco tranquillo ha i suoi effetti ha i suoi brutti effetti collaterali dobbiamo capire ho un antibiotico l'antibiotico non va bene per tutto dobbiamo capire per esempio nel nevropatico o nell'epatopatico se questo antibiotico viene metabolizzato per via epatico per via renale e in base all'organo in cui viene metabolizzato allora dobbiamo dare un certo tipo di farmaco telefonata buon pomeriggio da dove chiama e come si chiama firmo sì salve puoi porre la domanda a dottor Nicoletti dunque io volevo chiedere perché sono rimasto un po' sorpreso dal fatto che adesso alcune sezioni dell'emodialisi se non tutte per vera cosenza in provincia di questo dipendano non più da un direttore sanitario per esempio in quell'ospedale dove sono ubicate ma dipendono dal territorio e se io ritengo un'anomalia perché mentre il direttore sanitario di un ospedale non può che essere un medico che abbia anche una certa esperienza il direttore del territorio può anche non essere per la legge che ha istituito il distretto un non medico e allora mi chiedo ma scusi com'è possibile che se in un ospedale Spock c'è bisogno di una consulenza ci va il medico che fa l'emodialisi e praticamente non fa parte poi questo medico dall'ospedale io vorrei capire perché diciamo è una situazione un'anomalia se è un'anomalia solo per cosenza per cosenza abbiamo due minuti possiamo far rispondere il dottor Nicoletti ma in maniera molto sintetica penso io non so lei che lavoro faccia o con chi abbia parlato però c'è un po' di confusione intanto tutti i nefrologi tutti i centri di alisi territoriali ospedalieri sono gestiti da nefrologi medici nefrologi del direttore a noi non ce ne può fregar di meno che sia l'importante è che chi nel senso in maniera rispettosa per i direttori sanitarici volevo dire ripeto io sono sempre un po' provocatore i medici che trattano i pazienti nefropatici in dialisi in ospedale e sul territorio sono nefrologi quindi nessuna contraddizione e nessun attentato alla salute del paziente una sola cosa quello che dice lei è vero solo in un caso è che la legge italiana è un po' alcune volte ha delle storture e che nel centro di alisi privato privato attenzione non pubblico io sono orgoglioso di essere un medico che appartiene al pubblico e il direttore sanitario deve essere nefrologo invece i medici che fanno i trattamenti ideali possono essere non nefrologi in un centro privato in quelli pubblici non si sfugge perché la legge non lo dice Antonio Nicoletti non lo dice lei non lo dirà nessuno devono essere specialisti in nefrologia ce ne sono tanti centri privati che fanno dialisi ma da noi solamente in Calabria c'era solamente uno ma abbiamo regioni come la Campania e la Sicilia ma anche nelle Puglie ma soprattutto Campania e Sicilia dove esiste solo il privato solo il privato solo il privato e le dicono che viene naturalmente privato noi denigriamo tanto questa nostra regione denigriamo tanto la nostra sanità però se noi prendiamo basta prendere una cosa cioè da noi i centri ideali sono pubblici noi oggi abbiamo la possibilità ancora abbiamo la possibilità di comprare i migliori materiali scegliere i migliori materiali filtri linee farmaci che siano i migliori materiali che possiamo poi dare ai pazienti nei centri privati perché sono come dire delle convenzionate no 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 ma sono le stresse case madri che come dire aprono i centri privati freseni su altre cose quello e quello devono usare noi possiamo ancora possiamo scegliere parlavamo prima di personalizzazione oggi possiamo scegliere ancora in questa maledetta calabria il trattamento migliore per il paziente il filtro migliore per il paziente nelle altre parti questo non accade e lo vediamo con i nostri pazienti che vengono a fare dialisi vacanze mi perdoni se sforzo di questo secondo perché loro vengono tutti con la carta come dicevamo da ricetta della nonna noi no noi no abbiamo scoperto un'altra cosa e questa volta è positiva per la Calabria grazie Antonio Nicoletti grazie a voi le auguro buone vacanze so che ne farà poche e è bello anche quando si difende così anche perché le domande a volte sia le mie che quelle dei telespettatori sono provocatorie e quindi è giusto rispondere col piglio giusto e difendere quello che c'è da difendere nella sanità calabrese quando funziona abbiamo visto i numeri sono importanti poi avremmo avuto altre polemiche altre elementele perché ci seguono in tanti anche nefropatici e dializzati grazie a voi noi vi ricordiamo che in corsia continua ancora ci vediamo martedì prossimo con un altro argomento forse parleremo di dermatologia e di questi tempi ce n'è bisogno a presto 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 Grazie a tutti.